Ciao e benvenuto ad un racconto in formato no edit. L'idea del formato no edit è quello di leggere un racconto senza correzioni, senza tagli e con le piccole imperfezioni di sottofondo che possono capitare. Se questo formato non è di tuo gradimento, ti consiglio di andare ad ascoltare altri audiolibri, anche letti da me, in maniera più professionale. Per tutti gli altri, un buon ascolto. Le cose che hanno lasciato indietro. Le cose di cui vi voglio raccontare, quelle che hanno lasciato indietro, sono comparse a casa mia nell'agosto del 2002. Ne sono sicuro perché le ho trovate quasi tutte poco dopo aver aiutato Paola Robertson con il suo condizionatore. Il ricordo necessita sempre di un riferimento e questo è il mio. Paola era un'illustratrice di libri per bambini. Bella, diavolo, molto bella, con un marito nell'import-export. Un uomo tende a ricordare le occasioni che gli capitano di poter dare una mano a una bella signora in difficoltà. Persino una che continua a ripeterti di essere molto sposata. Sono occasioni fin troppo rare. Di questi tempi, di solito, i cavalieri erranti in pectore riescono solo a peggiorare la situazione. Era nell'atrio dello stabile con un'aria frustrata quando scesi per una passeggiatina pomeridiana. Le dissi salve, come va? Come si fa con le persone che abitano nel tuo stesso palazzo? E lei, in un tono esasperato, per non dire quasi querulo, mi chiese perché mai il custode dovesse essere in vacanza proprio adesso. Io le feci notare che anche alle cowgirl viene la malinconia e anche i custodi vanno in vacanza. Quell'agosto, per di più, era un mese estremamente logico per prendersi una pausa. A New York e a Parigi, scereami, in agosto si avverte una tangibile carenza di psicoanalisti, artisti di tendenza e custodi di stabili. Lei non sorrise. Dubito che avesse colto il riferimento a Tom Robbins, l'allusività e la maledizione dei corsi di lettura. Rispose che agosto poteva essere anche il mese giusto per chiudere bottega e andarsene al Cape o a Fire Island, ma il suo dannato appartamento stava praticamente andando a fuoco e il suo dannato condizionatore non si degnava di fare nemmeno un rutto. Le chiesi se voleva che ci desse un'occhiata e ricordo lo sguardo che mi lanciò, quegli occhi grigi che mi scrutavano con freddezza e ricordo che sorrisi alla domanda che mi pose, mi posso fidare? Si può fidare, risposi, è più di un anno che non aggredisco una donna. Ne assalivo due o tre alla settimana, ma la terapia di gruppo sta funzionando. Una stravaganza, ma ero in uno stato d'animo abbastanza stravagante, uno stato d'animo estivo. Lei mi guardò una seconda volta e poi fu lei a sorridere. Mi porse la mano. Paola Robson, disse. Fu la mano sinistra quella che mi offrì, una cosa non molto normale, ma era quella con la fede nuziale, una semplice fascetta d'oro. Io penso che fosse di proposito, non vi sembra? Ma fu più tardi che mi disse che suo marito era nell'import-export, il giorno in cui toccò a me chiedere aiuto a lei. In ascensore l'avvertì di non aspettarsi troppo. Ora, se avesse voluto un uomo che scoprisse le cause alla radice dei draft riots di New York, o che le raccontasse qualche aneddoto divertente sull'invenzione del vaccino contro il vagliolo, o anche che le raccogliesse citazioni sulle ramificazioni sociologiche del telecomando TV, la più importante invenzione degli ultimi cinquant'anni, secondo la mia modesta opinione, io ero l'uomo giusto. Lei si occupa di ricerche, signor Stanley? Mi domandò mentre salivamo nell'ascensore lento e rumoroso. Lo amisi, anche se non aggiunsi di essere ancora le prime armi. Ne la invitai a chiamarmi Scott, l'avrei messa di nuovo sul chi vive, e certamente non le confessai che stavo cercando di dimenticare tutto quello che avevo saputo un tempo sulle assicurazioni nelle zone rurali, che per la verità stavo cercando di dimenticare un gran numero di cose, fra cui una ventina di facce. Vedete, io posso anche cercare di dimenticare, ma ricordo lo stesso un bel po'. Credo che sia così per tutti, quando facciamo mente locale e qualche volta in una maniera molto più spiacevole quando non la facciamo. Ricordo fin anche la frase che disse uno di quei romanzieri sudamericani, sapete, quelli del realismo magico. Non uno in particolare, non è importante, ma questo aforisma. Da neonati, la nostra prima vittoria sta nel tenere in pugno un pezzettino del mondo, il solito alle dita di nostra madre. Più tardi scopriamo che il mondo e le cose del mondo stanno tenendo in pugno noi, e lo fanno fin dal principio. Borgs? Sì, può essere stato Borgs. O forse era Marquez, questo non lo ricordo. So solo che feci funzionare il suo condizionatore, e quando la macchina cominciò a soffiare aria fresca, il suo viso si illuminò. So anche che è vero quel fenomeno per cui la percezione si ribalta, e allora ci rendiamo conto che le cose che pensavamo di essere noi a tenere stanno in realtà tenendo noi, ci tengono prigionieri, forse. Di certo così pensava Thoreau, ma ci tengono anche al nostro posto. È in questo che sta lo scambio, e quale che fosse stata l'opinione di Thoreau io credo che sia equo. O lo credevo allora, ora non ne sono altrettanto sicuro. E so che questi fatti avvennero alla fine dell'agosto del 2002, meno di un anno da quando cadde un pezzo di cielo e per noi tutti tutto cambiò. Più o meno una settimana dopo che Sir Scott Staley aveva indossato la sua armatura da buon samaritano e affrontato e sconfitto il temibile condizionatore, scesi per la mia passeggiata pomeridiana fino a D'Astaves nell'83esima strada per comprare una confezione di dischetti e una risma di carta. C'era un tizio che aspettava da me 40 pagine di relazione sullo sviluppo della fotocamera Polaroid, una storia molto più interessante di quanto potreste immaginare. Quando tornai a casa, sul tavolino dell'ingresso dove tengo le bollette da pagare a segni di indennizzo, avvisi di scadenze per libri presi a prestito e cose di questa natura, c'era un paio di occhiali da sole con una montatura rossa e lenti molto particolari. Le riconobbi subito e di colpo mi vennero a mancare le forze. Non cascai, ma lasciai cadere gli oggetti che avevo in mano e mi appoggiai allo stipite, cercando di riprendere fiato mentre fissavo quegli occhiali da sole. Se non avessi avuto qualcosa contro cui sostenermi, credo che sarei svenuto come una fanciulla di un romanzo vittoriano, uno di quelli in cui allo scoccar della mezzanotte fa la sua apparizione il vampiro bramoso. Fu colto da due ondate emotive distinte, ma in relazione fra loro. La prima fu la sensazione di orripilata vergogna che si prova quando si sa di essere sul punto di venire colti in un atto che non si sarà mai in grado di spiegare. Il ricordo che mi affiora la mente a questo proposito è di un episodio che mi è accaduto, o quasi accaduto, quando avevo sedici anni. Mia madre e mia sorella erano andate a fare compere a Portland e presumevo di avere la casa tutta per me fino a sera. me ne stavo sdraiato nudo sul mio letto con l'uccello avvolto in un paio di mutandine di mia sorella. Sul letto c'erano fotografie che avevo ritagliato da riviste trovate in fondo la rimessa, molto probabilmente la raccolta segreta di penthouse e galleri del proprietario precedente. Sentì lo scricchiolio della ghiaia del nostro vialetto d'accesso sotto le ruote di una macchina. Impossibile non riconoscere il suono di quel motore erano mia madre e mia sorella. Pegs si era sentita male e aveva cominciato a vomitare dal finestrino. Erano arrivate fino a Poland Springs ed erano tornate indietro. Guardai le foto sparse sul letto, i miei indumenti sparsi per terra e il fiocco di Rayron Rosa nella mia mano sinistra. Ricordai come mi vennero a mancare le forze sostituite da un terribile senso di sfinitezza. Mia madre mi chiamava a gran voce, Scott, Scott, vieni giù ad aiutarmi con tua sorella, non si sente bene. E ricordo di aver pensato, a che serve? Mi hanno beccato. Tanto vale accettarlo. Mi hanno beccato e questa è la prima cosa che gli verrà in mente quando penseranno a me per il resto della mia vita. Scott, l'artista della sega. Ma in momenti come quelli il più delle volte scatta una specie di molla della sopravvivenza. È quello che accade a me. Sarei sceso, decisi, ma non l'avrei fatto senza almeno un tentativo di salvare la mia dignità. Buttai sotto il letto le foto e le mutandine, poi mi infilai nei miei vestiti manovrando con gran velocità e sicurezza le dita intorpidite, mentre continuavo a pensare alla gara contro il tempo che guardavo sempre in tv in un vecchio show. Ricordo mia madre che mi toccava la guancia caldata quando scesi le scale e la pensierosa preoccupazione nei suoi occhi. Forse ti stai ammalando anche tu, disse. E forse sì, dissi io, con un buon motivo per allegrarmi. Dovete passare mezz'ora prima che scoprirsi di essermi dimenticato la patta aperta. Per fortuna non se ne accorsero né Peg né mia madre, quando in qualsiasi altra occasione l'una o l'altra mi avrebbero chiesto se avevo la licenza per la vendita di hot dog. Questo era il tipo di umorismo vigente nella casa in cui sono cresciuto. Quel giorno una di loro era troppo malata e l'altra troppo preoccupata per fare dello spirito, così la passai totalmente liscia. Per mia fortuna. L'ondata emotiva che seguì la prima reazione in quel giorno di agosto nel mio appartamento fu molto più semplice. Pensai che stessi impazzendo perché quegli occhiali non potevano essere lì. Mai e poi mai. No, escluso. Poi alzai gli occhi e vedi qualcos'altro che nella maniera più assoluta non era a casa mia ma mezz'ora prima quando ero uscito per andare da Staples, chiudendo la porta a chiave come facevo sempre. Nell'angolo tra il cucinino il soggiorno era appoggiata una mazza da baseball. Hillary che Bradsby, secondo l'etichetta, e anche se non potevo vedere l'altro lato, sapevo benissimo che cosa c'era inciso. Liquidatore, marchiato a caldo nel frassino con una punta di ferro rovente e quindi colorato di blu scuro. Fui percorso da un'altra sensazione. Una terza ondata. Fui percorso da un'altra sensazione. Una terza ondata. Era una specie di sgomento surreale. Non credo ai fantasmi ma sono sicuro che in quel momento avevo la faccia di che ne aveva appena visto uno. E ne avevo anche lo stato d'animo. E come? Perché quegli occhiali da sole non dovevano esserci più. Spariti da lungo tempo come cantano, come cantano le Dixie Cheeks. Idem per il liquidatore di Cleve Farrell. Il baseball mi fa molto molto bene, diceva ogni tanto Cleve, roteando la mazza sopra la testa seduto alla sua scrivania. Le assicurazioni fanno molto molto male. Feci la sola cosa che mi venne in mente, vale a dire prendere gli occhiali scuri di Sonia d'amico e tornare al piccolo trotto all'ascensore, tenendoli a distanza di braccio come si fa con qualcosa dispiacevole che hai trovato sul pavimento in casa tua di ritorno da una settimana di vacanza, un pezzo di formaggio ammuffito o il cadavere di un topo avvelenato. Mi ritrovai a ricordare una conversazione che avevo avuto su Sonia con un tizio di nome Warren Anderson. Deve aver dato l'impressione di una che ha pensato di rispuntare per chiedere una Coca-Cola, avevo pensato quando mi aveva raccontato quello che aveva visto. Bevendo insieme un bicchiere al Blarney Stone Pub nella terza Avenue era stato sei settimane dopo la caduta del cielo. Dopo che avevamo brindato insieme per non essere morti. Così come quelle hanno la tendenza a restarti inculcate che tu la voglia o no. Come certe frasi musicali o lo stupido ritornello di una canzone pop che non riesci a toglierti dalla testa. Ti sveglia le tre di notte perché hai bisogno di fare pipì e in piedi davanti la tazza con l'uccello in mano e il cervello sveglio sì e no al 10% ti ritorna in mente come se avesse pensato di rispuntare, rispuntare e chiedere una Coca. A un certo punto durante quella conversazione Warren mi aveva chiesto se ricordavo quei suoi buffi occhiali da sole e io ho risposto di sì, come no. Quattro piani più giù Pedro, il portiere, chiacchierava con Rafe, l'uomo della FedEx, nell'ombra del tendone dell'ingresso. Pedro era un tipo rigoroso riguardo al tempo di sosta da concedere a un fattorino davanti al suo palazzo. Aveva una regola dei sette minuti, un orologio da tasca con cui farla rispettare e un'amicizia fraterna con tutti i poliziotti di quartiere, ma aveva legato con Rafe e alle volte se ne stavano a confabulare lì davanti anche per una ventina di minuti o più assorti nel bla 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 new yorkese. Politica? Baseball? Il Vangelo secondo Henry David Thoreau? Non ne avevo idea e quel giorno proprio non poteva interessarmi di meno. Erano lì quando ero salito in casa con i miei acquisti ed erano ancora lì quando uno Scott Staley, molto meno spensierato, ridiscese nell'atrio. Uno Scott Staley che aveva scoperto un piccolo ma importante buco nella colonna della realtà. Il solo fatto che fossero lì mi bastava. Mi avvicinai a loro con la mano destra protesa verso Pedro, la mano in cui reggevo gli occhiali scuri. Lei come chiamerebbe questi? Domandai senza chiedere permesso o scusarmi, intromettendomi senza remore. Lui mi rivolse uno sguardo perplesso che diceva «tanta maleducazione da parte sua mi sorprende, signor Staley, mi creda». Poi abbassò gli occhi sulla mia mano. Per un lungo momento stetta in silenzio inducendomi una considerazione orrenda. Non vedeva niente perché non c'era niente da vedere. Solo la mia mano protesa, come se fosse il giorno della festa delle parti invertite e mi aspettassi che fosse lui a dare la mancia a me. La mia mano era vuota. Per forza, perché gli occhiali da sole di Sonia d'amico non esistevano più. Gli scherzosi occhiali scuri di Sonia erano spariti da lungo tempo. «Li chiamo occhiali da sole, signor Staley», dichiarò finalmente Pedro. «Come se no? Oh, è una domanda tra bocchetto». Raff, l'uomo della FedEx, chiaramente più interessato, me li prese dalla mano. Il sollievo di vederlo prendere gli occhiali e guardarli, quasi studiarli, fu quello che si prova quando qualcuno ti gratta a quel punto preciso tra le scapole dove senti prurito. Usci da sotto il tendone e li alzò verso la luce del giorno facendo sprizzare un lampo solare da ciascuna delle lenti a forma di cuore. «Sono come quelli che portava la ragazzina in quel film porno con Jeremy Irons», commentò. Mi venne da sorridere, nonostante il momento difficile. A New York anche i fatturini sono critici cinematografici, è una delle cose da amare di questa città. «Infatti, Lolita», dissi io riprendendo gli occhiali. Solo che gli occhiali scuri a forma di cuore erano nell'altro film, quello diretto da Stanley Kubrick, quando Jeremy Irons portava ancora il pannolino. Quella era una precisazione fuori luogo, ma non me ne importava un fico secco. Mi sentivo di nuovo stravagante, ma non in una maniera positiva, non questa volta. «Chi faceva la parte del pervertito in quello?» volle sapere Rafe. Scossi la testa. «Ora come ora, proprio non ricordo». «Se mi è permesso», disse Pedro. «La vedo alquanto pallido, signor Stanley. Non è che sta covando qualcosa? Un'influenza, forse?» «No, quella era mia sorella», pensa di rispondere. «Il giorno in cui fui, a venti secondi dall'essere sorpreso, a masturbarmi nelle sue mutandine guardando una foto di missa aprile. Ma non mi avevano sorpreso. Non quella volta e nemmeno l'undici settembre. Vi ho fregati. Ho battuto di nuovo l'orologio sul tempo». Non avrei saputo dire se era così anche per Warren Anderson, che al Barney Stone mi aveva raccontato che quella mattina si era fermato al secondo piano a parlare degli Yankees con un amico, ma per me non essere sorpreso era diventato una vera specialità. «Sto bene», rassicurai Pedro. E sebbene non fosse vero, sapevo di non essere l'unico a vedere gli scherzosi occhiali di Sonia come un oggetto che esisteva veramente nel mondo, mi fece sentire almeno un po' meglio. Se quegli occhiali da sole erano nel mondo, probabilmente c'era anche Lily Rich e Bradsby di Cleve Farrell. «Ma sono proprio quelli là?» chiese all'improvviso Raffa in un tono di voce rispettoso e pronto a rimanerci di sasso. «Quelli del primo Lolita?» «No», risposi, ripiegando le stanghette dietro le lenti a forma di cuore. E mentre lo facevo mi tornò in mente il nome dell'attrice nella versione di Kubrick su Lion. Ancora non ricordavo chi aveva interpretato il pervertito. «Solo una scherzosa imitazione». «Ma hanno qualcosa di speciale?» volle sapere Raffa. «E' per questo che è venuto giù di corsa?» «Non so, qualcuno li ha dimenticati a casa mia». Tornai di sopra prima che potessero farmi altre domande, guardai in giro nella speranza di non trovare nient'altro, ma qualcosa c'era. Oltre agli occhiali da sole e all'ammazza da baseball con liquidatore inciso a fuoco nel legno, c'erano un cuscino scorreggione, una conchiglia di strombo, una monettina d'acciaio sospesa in un cubo di lucite e un fungo in ceramica, rosso con i pallini bianchi, sulla cui cappella sedeva una lice di ceramica. Il cuscino scorreggione era appartenuto a Jimmy Eagleton ed era stato protagonista di qualche momento di allegria tutti gli anni in occasione della festa di Natale. L'alice di ceramica era stata sulla scrivania di Maureen Hannon, un regalo della nipote, mi aveva detto una volta. Maureen aveva fantastici capelli bianchi che portava a lunghi fino la vita. È una cosa che si vede di rado in un ambiente aziendale, ma lei ci aveva lavorato per quasi 40 anni e riteneva di avere il diritto di portare i capelli come più le piaceva. Ricordavo sia la conchiglia sia la monettina, ma non in quasi cubicoli o uffici si trovavano. Forse mi sarebbe venuto in mente, forse no. Ce ne erano stati tanti di cubicoli e uffici alla Light and Bell Insurance. La conchiglia, il fungo e il cubo di lucite erano sul tavolino del mio soggiorno tutti raggruppati. Il cuscino scorreggione era posato, giustamente trovai, sul serbatoio del mio water di fianco all'ultimo numero della Spank Rural Insurance Newsletter. Le assicurazioni rurali erano la mia specializzazione, come mi pare di avervi detto. Conoscevo tutte le probabilità. Qui che probabilità c'erano? Quando qualcosa vi va storto e avete bisogno di parlarne, credo che per la maggior parte di noi il primo impulso è rivolgersi a un familiare. A me questa possibilità era negata. Mio padre aveva essato le vele e preso il largo quando io avevo due anni e mia sorella quattro. Mia madre, che non era tipo da mollare, si rimboccò le maniche e ci fece crescere, mentre contemporaneamente gestiva da casa una cleaning house di vendite per corrispondenza. Credo che quell'attività fosse stata una sua invenzione personale, che le garantì un adeguato di tenore di vita. Solo il primo anno fu davvero angosciante, mi confidò un giorno. Fumava però come una ciminiera e morì di cancro e polmone a 48 anni, 7 o 8 anni prima che internet potesse farla forse diventare una milionaria dot com. Mia sorella Peg viveva attualmente a Cleveland, dove aveva sposato la causa della Mary Kay Cosmetics degli indiani e del fondamentalismo cristiano. Non necessariamente in quest'ordine. Se li avessi telefonato e li avessi raccontato degli oggetti che avevo trovato a casa mia, mi avrebbe consigliato di inginocchiarmi e chiedere a Gesù di entrare nella mia vita. A torto o a ragione, io non credevo che Gesù potesse aiutarmi con il problema che avevo per le mani. Ero dotato del numero standard di zii, zie e cugini, ma vivevano per lo più a ovest del Mississippi ed erano anni che non li vedevo. I Killian, il lato materno della mia famiglia, non erano mai stati parte attiva del parentado. Un biglietto di auguri di compleanno e uno per Natale erano considerati sufficienti a espletare tutti gli obblighi familiari. Un biglietto d'auguri per il giorno di San Valentino, per Pasqua, erano un extra. Per le feste di Natale telefonavo a mia sorella, oppure era lei a chiamare me. Borbottavamo le solite stronzate sul ritrovarci da qualche parte presto e riattaccavamo con quello che immagino fosse sollievo reciproco. La seconda opzione, quando sei nei guai, sarebbe probabilmente quella di invitare a bere qualcosa a un buon amico, spiegargli la situazione e poi chiedergli consiglio. Ma io ero un ragazzo timido, che da adulto era diventato un uomo timido e nella mia attuale attività di ricerca lavoravo da solo, preferibilmente. E di conseguenza non avevo colleghi che potessero evolversi in amici. Me ne ero fatti alcuni nel mio lavoro precedente, Sonia e Cleve Farrell, per citarne due, ma naturalmente sono morti. Conclusi che quando non si ha un amico con cui parlare, l'alternativa migliore è noleggiarne uno. Potevo senz'altro permettermi una piccola terapia e mi sembrava che qualche seduta sul divano di uno psichiatra, quattro sarebbero potute bastare, mi avrebbe offerto l'occasione di spiegare che cosa era successo e di articolare le sensazioni che mi aveva arrecato. Di quanto avrebbero potuto alleggerirmi quattro sedute? 600 dollari? Forse 800? Mi sembrava un prezzo equo per un po' di sollievo e pensai che potesse anche esserci un bonus. Un outsider disinteressato sarebbe stato forse capace di vedere una spiegazione semplice e ragionevole che a me sfuggiva. Secondo il mio modo di pensare, la porta chiusa a chiave tra il mio appartamento e il mondo esterno le escludeva quasi tutte, ma quello era il mio modo di pensare in fondo. Non era questo il punto? E forse il problema? Mi ero preparato a dovere. Durante la prima sessione avrei spiegato che cosa era successo. Quando mi fossi presentato per la seconda avrei portato con me gli oggetti in questione. Occhiali da sole, cubo di lucite, conchiglia di strombo, mazza da baseball, fungo di ceramica, lo spassosissimo cuscino scorreggione. Una piccola esposizione con esibizione, come si fa alle elementari. Sarebbero rimaste ancora due sessioni durante le quali il mio amico a noleggio e io avremmo potuto determinare l'origine di questo inquietante spostamento dell'asse della mia vita e raddrizzare la situazione. Un solo pomeriggio passato a sfogliare le pagine gialle e a comporre numeri al telefono, mi bastò a dimostrarmi che per quanto buona potesse essere in teoria, l'idea della psichiatria era in realtà impraticabile. La più concreta prospettiva di appuntamento che riuscii a trovare fu quando una segretaria mi disse che il dottor Jaws avrebbe forse potuto ricevermi nel gennaio entrante. Lasciò anche intendere che avrebbe dovuto ricorrere a qualche gioco di prestigio per infilarmi nella sua agenda. Con gli altri, nemmeno un barlume di speranza. Dentà inutilmente cinque o sei terapeuti di Newark e quattro di White Plains, persino un ipnotista del Queens. Mohamed Hatta e la sua pattuglia suicida avevano fatto forse molto molto male alla città di New York, per non parlare del settore delle assicurazioni, ma da quel singolo infruttuoso pomeriggio telefonico mi fu chiaro che erano stati una manna per la professione psichiatrica, per quanto potessero esserne dispiaciuti gli psichiatri stessi. Nell'estate del 2002, se volevi andarti a sdraiare sul divano di un terapeuta, dovevi prendere il numerino e metterti in fila. Con quegli oggetti in casa potevo dormire, ma non bene. Mi bisbigliavano. Rimanevo sveglio a letto, alle volte fino le due, pensando a Maureen Hannon, che riteneva di aver raggiunto un'età, per non parlare di un livello di indispensabilità, in cui le era consentito portare i suoi straordinari capelli come diavolo preferiva. Oppure ricordavo le varie persone che scorrazzavano al party di Natale agitando il famoso cuscino scorregione, che dopo due o tre bicchieri all'avvicinarsi dell'anno nuovo diventava uno dei numeri più richiesti e ripetuti. Ricordavo che Bruce Mason mi aveva chiesto se non mi sembrava un clistere per elfi. Elfi, aveva detto, e per associazione ricordai che la conchiglia era sua. Naturale. Bruce Mason, il signore delle mosche. E passando all'altro anello della catena associativa trovai il nome e il volto di James Mason, che aveva interpretato Humbert Humbert ai tempi in cui Jeremy Irons portava ancora il pannolino. La mente è una scimmia furbacchiona. Certe volte lei brande banana, certe volte lei no. Motivo per il quale ero sceso con gli occhiali, anche se al momento non ero consapevole dell'esistenza di un processo deduttivo. Cercavo solo una conferma. C'è una poesia di George Seferis in cui chiede, sono queste le voci dei nostri amici morti o è solo il grammofono? In certi casi è una buona domanda, una di quelle da rivolgere a qualcun altro, oppure ascoltate questa. Una volta, negli ultimi anni ottanta, verso la fine di una penosa storia d'amore con l'alcol durata due anni, mi svegliai nel mio studio nel cuore della notte dopo essermi addormentato alla scrivania. Feci rotta barcollando verso la camera da letto dove, mentre allungavo la mano all'interruttore, vidi muoversi qualcuno. Mi balenò l'idea, la quasi certezza, di un tossico venuto a rubare con una trentadue presa a noleggio da un banco di pegni per pochi dollari nella mano tremante e per poco non mi saltò fuori il cuore dal petto. Accesi la luce con una mano mentre prendevo qualcosa di pesante dal comò con l'altra. Qualunque cosa mi sarebbe andata bene anche la cornice d'argento della foto di mia madre quando vidi che l'intruso ero io. Guardavo con gli occhi sgranati me stesso nello specchio sul muro di fronte, con la camicia per metà fuori dei pantaloni e i capelli dritti in testa. Mi sentì disgustato da me stesso ma anche risollevato. Volevo che fosse così anche questa volta. Volevo che fosse lo specchio, il grammofono, persino qualcuno che mi stesse giocando un brutto scherzo. Scherzo. Forse qualcuno che sapeva perché quel giorno di settembre non ero in ufficio. Ma sapevo che non era così. Il cuscino scorreggione c'era davvero, era un ospite concreto a casa mia. Potevo far scorrere il pollice sulle fibbie delle scarpe di ceramica di Alice o l'indice sulla scriminatura tra i gialli capelli di ceramica. Potevo leggere la data sul soldino dentro al cubo di lucite. Una volta in luglio una festa aziendale a Jones Beach, Bruce Mason, alias l'uomo della conchiglia, alias il signore delle mosche, portò la sua grossa conchiglia rosa e la suonò soffiandoci dentro per richiamare i convitati a un allegro picnic a base di hot dog e hamburger. Poi cercò di mostrare a Freddy Lanz come si faceva. Il meglio che riuscì a ricavarne Freddy fu una serie di deboli pernacchie simili, beh, simili al cuscino scorreggione di Jimmy Eagleton. E via che si gira in tondo. In ultima analisi tutte le catene associative si chiudono in un cerchio. Alla fine di settembre ebbi un lampo di genio. Una di quelle idee così semplici che non riesci a capire perché non ci hai pensato prima. Perché mi tenevo tutte quelle odiose cianfrusaglie? Perché non me ne sberazzavo? Non è che mi fossero state affidate. Le persone che le avevano possedute non sarebbero tornate un giorno o l'altro a chiedermi di restituirgliele. L'ultima volta che avevo visto la faccia di Cleve Farrell era stato su un manifesto e l'ultimo di quei manifesti era stato rimosso nel novembre del 2001. La sensazione collettiva, sebbene inespressa, era che simili omaggi, casalinghi, scoraggiassero i turisti, che avevano cominciato a tornare alla spicciolata Fawn City. Quello che era avvenuto era orribile, obiettavano molti newyorkesi, ma l'America c'era ancora e Matthew Broderick non sarebbe stato in The Producers in eterno. Mangiai cibo cinese quella sera, preso da un posto di mio gradimento a un paio di isolati da casa. L'idea era di consumarlo come facevo con tutti i miei pasti serali, guardando Chuck Scarborough che mi spiegava il mondo. Stavo accendendo il televisore quando ci fu l'epifania. Non mi erano stati affidati quegli indesiderati souvenir dell'ultimo giorno in cui il mondo era sembrato al sicuro, né erano dei reperti di prova. Un crimine c'era stato, questo sì, eravamo tutti d'accordo, ma i responsabili erano morti e coloro che li avevano spediti in quella folle missione erano latitanti. Forse in futuro ci sarebbero stati dei processi, ma Scott Staley non sarebbe stato chiamato a deporre e il cuscino scoreggione di Jimmy Eagleton non sarebbe mai stato classificato come reperto A. Lasciai in cucina il mio pollo alla generale Zoh ancora chiuso nella sua vaschetta d'alluminio. Presi un sacco da lavanderia dal ripiano sopra la mia quasi inutilizzata lavatrice, ci infilai gli oggetti, mentre lo facevo stentavo a credere quanto fossero leggeri o quanto tempo avessi lasciato passare prima di compiere un'operazione così semplice, e scesi in ascensore con il sacco tra i piedi. Andai all'angolo della settantacinquesima con Park. Mi guardai intorno per assicurarmi che nessuno mi stesse osservando, chissà poi perché ero così furtivo. Poi mollai i rifiuti al loro posto. Mi allontanai con un'ultima occhiata alle spalle. Il manico della mazza da baseball sporgeva invitante dal cestino. Qualche passante se la sarebbe portata via, non ne dubitavo. Probabilmente prima che Chuck Scarborough lasciasse il posto a John Siegenthaler o chi altri avesse invitato quella sera Tom Brokaw. Di ritorno a casa mi fermai al Fan Choi a ordinare un nuovo generale Tso. «Ultimo anno buono?» mi chiese Rosming alla cassa. Era preoccupata. «Tu dile perché!» «No, l'ultimo era buonissimo», risposi. «Mi è solo venuta voglia di mangiarne un altro». Rise come se fosse la cosa più buffa che avesse mai sentito, e risi anch'io. «Con forza!» Il genere di risata che si accompagna bene la stravaganza. Non ricordavo l'ultima volta che avevo riso così sonoramente e così naturalmente, certo non dopo che la light and bad insurance era caduta in West Street. Salì in ascensore al mio piano e compì i dodici passi fino al 4B. Mi sentivo come devono sentirsi le persone gravemente malate quando un giorno si svegliano, si esaminano la luce sana del giorno e scoprono di non avere più la febbre. Mi incastrai il sacchetto con il pollo sotto il braccio sinistro, una manovra complicata ma praticabile se per un periodo molto breve, e aprì con la chiave. Accesi la luce. Lì, sul tavolino, dove lascio i conti da pagare, gli assegni degli indennizi e gli avvisi dei libri da restituire, c'erano gli scherzosi occhiali da sole di Sonia D'Amico, quelli con la montatura rossa e le lenti da lolita a forma di cuore. Sonia D'Amico, che secondo Warren Anderson, il quale per quanto ne sapevo era l'unico altro sopravvissuto dei dipendenti della sede centrale della light and bell, era saltata dal centodecimo piano della torre colpita. Sosteneva di aver visto una foto che le era stata scattata mentre si lanciava. Sonia, con le mani pudicamente premute sulla sottana perché non le scoprisse le cosce, i capili dritti contro il fumo e il blu del cielo di quel giorno, le punte delle scarpe all'ingiù. La descrizione mi aveva fatto pensare a Falling, la poesia che James Dickey ha scritto su di un assistente di volo risucchiata fuori dall'aereo che cerca di dirigere verso l'acqua il sasso precipitante del suo corpo, come se potesse riemergere sorridendo, scuotendosi perle d'acqua dei capelli e chiedendo una coca cola. Ho vomitato, mi disse quel giorno Warren al Blarneystone. Non voglio dover vedere mai più una foto come quella, Scott, ma so che non la scorderò mai. Le si vedeva la faccia e credo che credesse che non so come... già che non so come ce l'avrebbe fatta. Da adulto non mi è mai successo di urlare, ma ci arrivai vicino quando staccai lo sguardo dagli occhiali da sole di Sonia per posarli sul liquidatore di Cliff Farrell, la mazza da baseball appoggiata di nuovo con nonchalance nell'angolo tra l'ingresso e il soggiorno. Qualcosa dentro di me deve aver ricordato che la porta di casa era aperta e se avessi urlato entrambi i miei vicini del quarto piano mi avrebbero sentito. Poi, come si suol dire, avrei avuto qualche spiegazione da dare. Mi sbattei una mano sulla bocca per trattenere l'urlo. Il sacchetto con il pollo alla generale Zoh cadde sul parquet dell'ingresso e si aprì. Rabbrividi guardando quel che c'era per terra. Quei pezzetti scuri di carne cotta sarebbero potuti essere qualunque cosa. Crollai a sedere sull'unica sedia che tengo nell'ingresso e mi presi il volto tra le mani. Non urlai e non piansi e dopo un po' trovai la forza di pulire per terra. La mia mente tornava in continuazione agli oggetti che mi avevano preceduto di ritorno dall'angolo della settantacinquesima con Park, ma io la ricacciavo indietro. Ogni volta che si protendeva in quella direzione afferravo il suo guinzaglio e tiravo con forza. Quella notte, a letto, ascoltai le conversazioni. Prima parlavano gli oggetti, a voce bassa, e poi rispondevano le persone che li avevano posseduti, a un volume di voce leggermente più alto. Qualche volta parlavano del picnic a Jones Beach, dell'aroma di cocco, della crema bronzante di Lou Bega che cantava a ripetizione Mambo No. 5 dall'enorme stereo di Mischa Brzynski. Oppure parlavano dei frisbee che volavano sotto il cielo inseguiti dai cani. Qualche volta discutevano dei bambini che si aggiravano sulla sabbia bagnata con il fondo dei calzoncini e dei costumi penzoloni. Madri in costumi da bagno comprati per posta dal catalogo di Lens Hand che li accompagnavano con un bozzolo di crema bianca sul naso. Quanti di quei bambini quel giorno avevano perso una mamma guardiana o un papà lanciatore di frisbee? Mio Dio, quello era un problema di aritmetica che non volevo risolvere, ma le voci che sentivo in casa mia lo volevano e calcolavano e calcolavano. Ricordai Bruce Mason che soffiava nella sua conchiglia di strombo e si proclamava signore delle mosche. Ricordai Maureen Hannon che mi diceva, non a Jones Beach, non quella volta, che Alice nel paese delle meraviglie era stato il primo romanzo psichedelico. Jimmy Eagleton che mi confidava un giorno che suo figlio, oltre le balbuzie, aveva un problema di apprendimento, due al prezzo di uno, e che se voleva sperare di uscire dal liceo in un prevedibile futuro avrebbe avuto bisogno di lezioni private di matematica e anche di francese. Prima che abbia diritto allo sconto per pensionati sui libri di testo, fu l'espressione usata da Jimmy. Guance pallide e un po' ruvide nella luce allungata del pomeriggio, come se quella mattina il suo rasoio non fosse stato abbastanza affilato. Mi stavo assopendo, ma quell'ultima immagine mi risvegliò del tutto di soprassalto, perché mi resi conto che quella conversazione doveva essere avvenuta non molto prima dell'11 settembre, forse solo pochi giorni prima, forse persino il venerdì precedente, che sarebbe diventato l'ultimo giorno in cui avrei visto Jimmy vivo. E il marmocchio con le balbuzie e i problemi di apprendimento non è che si chiamava Jeremy come Jeremy Irons? Sicuramente no, sicuramente quello era uno scherzo della mia mente, qualche volta a lei brande banana, ma era un nome molto simile per Dio. Jason, forse, o Justin. Nelle ore piccole tutto si ingigantisce e ricordo di aver pensato che se veramente il ragazzino si chiamava Jeremy, probabilmente sarei impazzito. La goccia che fa traboccare il vaso, baby. Verso le tre di notte ricordai di chi era il cubo di Lucite con dentro la monetina d'acciaio, Roland Abelson dell'ufficio responsabilità civile. Diceva che era il suo fondo pensione. Era Roland ad avere l'abitudine di dire Lucy, hai qualche spiegazione da dare, una sera dell'autunno del 2001. Avevo visto la sua vedova al telegiornale delle sei. Avevo chiacchierato con lei a uno dei picnic aziendali, molto probabilmente quello a Jones Beach, e l'avevo trovata graziosa. Ma la vedovanza aveva aggiunto ulteriore finezza al suo aspetto. L'aveva elevato ad autentica bellezza. Nell'intervista continuava a riferirsi a suo marito definendolo disperso. Si rifiutava di definirlo morto. E se fosse stato vivo, se mai fosse riapparso, avrebbe avuto delle spiegazioni da dare. Puoi scommetterci, ma naturalmente ne avrebbe avute anche lei. Una donna che da graziosa diventa bella in conseguenza di un omicidio di massa non può non avere qualche spiegazione da dare. Restare sdraiato sul letto a fare questi pensieri, ricordando lo scroscio della risacca Jones Beach e i frisbee che volavano sotto il cielo, mi riempì di una terribile tristezza che finalmente si sfogò in lacrime. Ma devo ammettere che fu un'esperienza da cui uscì con una lezione appresa. Fu quella la notte in cui giunsi a capire che le cose, persino quelle piccole, come una monetina da un centesimo in un cubo di lucite, possono appesantirsi con il passare del tempo. Ma poiché è un peso della mente, non esiste una formula matematica come quelle che puoi trovare negli opuscoli delle compagnie di assicurazione, dove il costo della tua polizza sulla vita sale di X se fumi e il prezzo della copertura sui tuoi raccolti sale di Y se la tua azienda agricola è una zona di tornado. Capite cosa intendo? È un peso della mente. L'indomani mattina radunai di nuovo tutti gli oggetti e ne trovai un settimo nascosto sotto il divano. Mischa Brzynski, quello che occupava il cubicolo di fianco al mio, teneva sulla sua scrivania una piccola coppia di bambolotti Punch e Judy. Quello che scorsi sotto il mio divano era Punch. Judy non era nei paraggi, ma Punch bastava e avanzava. Quegli occhi neri che mi fissavano dal mezzo dei bioccoli di polvere mi fecero sprofondare nello sgomento. Tirai fuori la bambola, odiando la scia di sporco che si lasciò indietro. Una cosa che lascia una scia è una cosa reale, una cosa con un peso. Non c'è scampo. Riposi Punch e tutto il resto del piccolo ripostiglio appena oltre il cuscino e lì restarono. In principio non ne fui tanto sicuro, ma restarono. Una volta mia madre mi disse che se un uomo si pulisce il culo e vede che c'è del sangue sulla carta igienica, la sua reazione sarebbe di cagare al buio per i prossimi trenta giorni e sperare. Aveva usato questo esempio per illustrarmi il suo concetto, secondo il quale la chiave di volta della filosofia maschile era se lo ignori magari sparisce. Io ignorai gli oggetti trovati in casa mia. Sperai. E in effetti le cose andarono un po' meglio. Sentivo solo raramente quelle voci che bisbigliavano nel ripostiglio, eccetto che a notte fonda, ma ero sempre più inclini ad andare a svolgere le mie ricerche fuori casa. Verso la metà di novembre trascorrevo quasi tutte le mie giornate alla biblioteca pubblica. Sono sicuro che i leoni si fossero abituati a vedermi arrivare con il mio powerbook. Poi, poco prima del ringraziamento, un giorno mentre uscivo di casa, incrociai Paula Robson, la bella signora che avevo salvato schiacciando il pulsante del reset del suo condizionatore. Su due piedi, senza pensarci, se avessi avuto tempo di pensarci sono convinto che non avrei spiccicato una parola, le chiesi se potevo offrirle il pranzo per parlare di una certa... questione. Il fatto è, aggiunsi, che ho un problema. Forse lei potrebbe schiacciare il mio bottone di reset. Eravamo nell'atrio. Pedro, il portiere, sedeva nell'angolo a leggere il post e ascoltando ogni parola, non è dubito, per Pedro i suoi inclini erano il dramma quotidiano più interessante al mondo. Lei mi rivolse un sorriso insieme cordiale e nervoso. Immagino di essere in debito, commentò. Ma lei sa che sono sposata, vero? Sì, risposi, senza aggiungere che aveva scambiato con me una stretta con la mano sbagliata perché non potessi mancare di notare la fede. A noi. Certo, ci avrà pur visti insieme qualche volta, ma quando ho avuto tutti quei guai con il condizionatore era in Europa ed è in Europa anche ora, si chiama Edward. Da due anni a questa parte è più in Europa che qui e anche se non mi piace sono molto sposata lo stesso. Poi, come un ripensamento, soggiunse Edward nell'import-export. Io invece lavoravo nelle assicurazioni, però un giorno la ditta esplose, pensai di ribattere. Ci andai anche vicino. Alla fine riuscì a tirarmi fuori qualcosa di più ragionevole. Non voglio un appuntamento galante, signora Robson, tanto quanto non desideravo che ci dessimo del tu e fu forse una scintilla di delusione quella che le vidi balenare negli occhi. Pensai proprio che lo fosse, ma almeno l'avevo convinta, ero ancora affidabile. Si posò le mani sui fianchi e mi guardò con finta esasperazione, o forse non tanto finta. Allora, cosa vuole? Solo qualcuno con cui parlare. Ho cercato di contattare alcuni psichiatri, ma sono presi. Tutti? A quanto pare. Si ha dei problemi con la sua ex moglie o sente l'impulso di scorrazzare per la città ad ammazzare uomini con il turbante? Io non voglio saperlo. Non è niente del genere. Non la farò arrossire, glielo prometto. Che non era proprio come se avessi detto, le prometto di non scioccarla o non le darò da pensare che sia pazzo. Solo il pranzo è un piccolo consiglio, non chiedo altro. Che ne dice? Rimasi sorpreso, per non dire esterrefatto dalla mia capacità di persuasione. Se avessi preparato quella conversazione in anticipo, sono quasi sicuro che avrei mandato tutto all'aria. Immagino che fosse curiosa e sono certo che avesse colto una sufficiente dose di sincerità nella mia voce. Non escludo che abbia calcolato che, se fossi stato uno a cui piace rimorchiare, ci avrei provato in quel giorno d'agosto quando mi ero trovato da solo in casa sua, mentre l'elusivo Edward era in Francia o in Germania. E non posso non chiedermi quanta reale disperazione avesse letto sul mio viso. Fatto sta che accettò di pranzare con me al Donald's Grill nella nostra strada quel venerdì. Il Donald's è forse il ristorante meno romantico di tutta Manhattan. Cucina ricca, lampade al neon, camerieri che ti fanno capire di sbrigarti. E lei mi accontentò con l'aria di chi sta pagando tardivamente un debito di cui si era quasi scordata. Non era molto lusinghiero, ma a me bastava. Disse che le andava bene a mezzogiorno. Se ci fossimo dati appuntamento nell'atrio saremmo potuti andare a piedi insieme. Accettai la sua proposta. Quella notte fu una di quelle buone per me. Mi addormentai quasi immediatamente e non sognai Sonia d'amico che cadeva lungo la facciata del palazzo in fiamme con le mani sulle cosce, come un assistente di volo che cerca l'acqua. Quel venerdì, mentre percorrevamo insieme l'ottantaseiesima strada, chiesi a Paola dove si trovava lei quando l'aveva sentito. A San Francisco, rispose, nel mondo dei sogni in una suite del Redling Hotel con Edward accanto a me, sicuramente a russare come sempre. Avevo in programma di rientrare qui il 12 settembre, mentre Edward andava a Los Angeles per delle riunioni. Al nostro albergo azionarono l'allarme antincendio. Deve essere stato uno bello spavento. Lo è stato, anche se il mio primo pensiero fu che non fosse un incendio, ma un terremoto. Poi si è sentita questa voce dagli altoparlanti che ci diceva che non c'era un incendio nell'albergo, ma ce n'era uno terrificante a New York. Gesù, sentirlo così in un letto di una stanza sconosciuta, sentirlo venire giù dal soffitto come la voce di Dio, scosse la testa, compresse le labbra con tanta forza che il suo rossetto scomparve quasi completamente. È stato un momento di terrore. Immagino che si possa capire l'urgenza di dare una notizia come quella il più presto possibile, ma io non ho ancora perdonato del tutto la direzione del Redling per averlo fatto in quel modo. Credo che non ci dormirò più. E suo marito andò alle riunioni? Furono annullate. Immagino che quel giorno ne furono annullate in gran numero. Restammo a letto con la tele accesa fino all'alba cercando di assimilare. Capisce cosa intendo? Sì, parlammo di chi tra le persone di nostra conoscenza potesse essere stato nelle torri. Suppongo che non siamo stati soli a farlo. Vi è venuto in mente qualcuno? Un broker della Shearson Lehman e il vice direttore della Borders, la libreria al centro commerciale. Uno se l'è cavata, uno... beh, sa, uno no. E lei? Fu così che non dovetti ricorrere a sotterfugi. Non eravamo ancora al ristorante ed eccoci già al punto. Io potevo esserci, dissi. Io dovevo esserci. E dove lavoravo? In una compagnia di assicurazione al centodecimo piano. Si fermò di colpo guardandomi con gli occhi sbarrati. Immagino che alle persone che dovettero schivarci sembrassimo amanti. Scott, no. Scott, sì. E finalmente raccontai a qualcuno come l'11 settembre mi ero svegliato aspettandomi di fare tutte quelle cose che faccio nei giorni feriali. Dalla tazza di caffè nero, mentre mi rado, fino alla tazza di cioccolata davanti al riassunto del notiziero della mezzanotte su Channel 13. Un giorno come ogni altro giorno, quello avevo in mente. Credo che sia quello che gli americani sono giunti ad aspettarsi come un loro diritto. Beh, ma guarda un po'. C'è un aeroplano. E finisce dentro un grattacielo. Coglione, ci sei cascato. E mezzo mondo se la ride. Le raccontai di aver guardato fuori della finestra e di aver visto il cielo delle sette del mattino perfettamente limpido, di quel blu così profondo che ti sembra di potervi guardare attraverso fino alle stelle che ci sono al di là. Poi le dissi della voce. Credo che ognuno abbia varie voci nella propria testa e ci faccia l'abitudine. A sedici anni una delle mie prese la parola e insinuò che potesse essere particolarmente eccitante masturbarmi dentro un paio di mutandine di mia sorella. Ne avrà più di mille, di sicuro non si accorgerà se gliene sparisce un paio. Dai, mi fece notare la voce. Non raccontai a Paola Robson di questa mia particolare avventura adolescenziale. Dovrei definire questa la voce dell'irresponsabilità totale, più nota come Mr. Yogi Down. «Mr. Yogi Down?» ribatté Paola dubbiosa. «In onore di James Brown, il re del sol. Se lo dice lei, Mr. Yogi Down ha avuto via via sempre meno da dirmi, specialmente da quando ho praticamente smesso di bere. E quel giorno si ridestò dal suo sonno il tempo di pronunciare una manciata di parole, ma di quelle che cambiano la vita, che salvano la vita. Le prime, io sono lì seduto sul bordo del letto, furono «Yo, datti malato e dai!». Le altre, io sono lì che vado in mezzo intontito a fare la doccia e mi gratto la chiappa sinistra mentre cammino, furono «Yo, fatti una giornata al Central Park!». Non sto alludendo a una premonizione. Era chiaramente Mr. Yogi Down, non la voce di Dio. Era solo un'altra versione della mia voce naturale, come tutte le altre, in altre parole che mi incitava a bigiare. «Fai qualcosa anche per te e dai!». L'ultima volta che ricordo di aver sentito questa versione della mia voce era in occasione di una gara di karaoke in un bar di Amsterdam Avenue. «Yo, vai a fare un duetto con Neil Diamond e dai! Salta su quel palco e smollati!». «Credo di capire che cosa intende», disse lei sorridendo un po'. «Davvero?». «Beh, una volta in un bar di K-West mi tolsi la camicetta e vinsi dieci dollari ballando su Onky Donky Woman». Fece una pausa. «Edward non lo sa e se lei glielo racconta sarò costretta ad accecarle un occhio con una delle sue spille da cravatta». «Oh, sei forte, ragazza mia!», commentai. E da lì prende modarci del tu e il suo sorriso assunse una piega malinconica che la fece sembrare più giovane. Pensai che il mio tentativo avesse qualche possibilità di riuscita. Entrammo da Donald's. Sulla porta c'era un tacchino di cartone e c'erano pellegrini di cartone sulla parete in piastrelle verdi sopra il banco delle pietanze a vapore. «Ho dato retta a mister Yao Gidown e sono qui», dissi. «Ma ci sono anche alcune altre cose che non c'entrano niente con lui, oggetti di cui sembra che io non possa disfarmi. È di questi che voglio parlare». «Lascia che ti dica ancora che non sono uno strizzacervelli», rispose, «e con più che una lieve traccia di disagio». Non sorrideva più. «Sono specializzata in tedesco e ho preso storia europea come complementare. Tu e tuo marito dovete avere parecchio di cui parlare», riflettei. A voce alta le spiegai che non avevo scelto lei per un motivo particolare. Mi bastava poterne parlare con qualcuno. «Va bene, basta che tu lo sappia». Un cameriere venne a prendere le nostre ordinazioni. Decaffeinato per lei, normale per me. Quando si fu allontanato mi chiese di quali oggetti stessi parlando. «Questo è uno». Mi tolsi di tasca il cubo di lucite con il soldino d'acciaio sospeso al centro e lo posai sul tavolo. Poi le raccontai degli altri oggetti e delle persone a cui erano appartenuti. «Clive Farrell». «Il baseball mi fa molto molto bene». «Maureen Hannon», che portava i capelli lunghi fino alla vita come segno della sua indispensabilità aziendale. «Jimmy Eagleton», che aveva un naso divino per le richieste di risarcimento truffaldine. Un figlio con difficoltà di apprendimento e un cuscino scorreggione che teneva nascosto in un cassetto della sua scrivania fino al giorno del party di Natale. «Sonia D'Amico», la miglior contabile della Light and Bell, a cui il primo marito aveva donato gli occhiali da sole di Lolita come regalo d'addio dopo una sgradevole causa di divorzio. «Bruce Mason, signore delle mosche, che rivedrò per sempre a torso nudo a soffiare della sua conchiglia Jones Beach nella schiuma delle onde che gli si scioglieva intorno ai piedi». E per finire, Mischa Brzynski, con cui ero andato a vedere almeno una decina di partite dei Mets. Le raccontai di aver rovesciato tutto, eccetto il bambolotto di Mischa, in un cestino dei rifiuti all'angolo di Park con la settantacinquesima, e che tutti gli oggetti erano tornati a casa prima di me, forse perché mi ero fermato a ordinare una seconda razione di pollo alla generale Zó. Durante tutto il mio racconto il cubo di Lucite rimase sul tavolo tra noi due. Riuscimmo a consumare almeno una parte del nostro pasto a dispetto del suo profilo severo. Quando ebbe finito di parlare, mi sentì meglio di quanto avessi osato sperare, ma il silenzio che veniva dalla sua parte del tavolo era terribilmente pesante. «Dunque», dissi per spezzarlo, «cosa ne pensi?» Si prese un momento per riflettere e non l'abbiasi mai. «Penso che non siamo più gli sconosciuti che eravamo», disse finalmente. «E che fare una nuova amicizia non è mai una brutta cosa. Penso di essere contenta di sapere di Mr. Yogi Down e di averti confessato che cosa ho fatto. Anch'io, ed era vero. Ora posso farti io due domande?» «Certamente». «Fino a che punto provi quello che chiamano rimorso del sopravvissuto?» «Mi sembrava che mi avessi detto che non sei uno strizzacervelli». «Non lo sono, ma leggo le riviste e seguo opera. Queste sono cose di cui mio marito è a conoscenza, anche se io preferisco non rimarcarglielo». «Allora, fino a che punto, Scott?» «Meditai sulla sua domanda. Era di quelle buone e naturalmente era una di quelle che mi ero posto più di una volta durante quelle notti insonni». «Parecchio», risposi. «Insieme con un notevole sollievo. Non ho intenzione di mentire su questo. Se Mr. Yogi Down fosse una persona in carne e ossa, non avrebbe da pagare mai più un conto di ristorante. Non quando ci fossi stato anch'io». «Ne sei colpita?» «Lei allungò il braccio per toccarmi per un istante la mano. Niente affatto. Sentirglielo dire mi fece sentire meglio di quanto avrei creduto. Le strinsi per un istante la mano e gliela lasciai andare. Qual è l'altra domanda? Quanto importante è per te che io creda la tua storia di questi oggetti che rispuntano fuori?» «Pensai che fosse una domanda eccellente. Sebbene lì davanti a noi, accanto alla zuccheriera, ci fosse il cubo di lucite. Oggetti come quello non sono rari del resto. E pensai che se si fosse specializzata in psicologia invece che in tedesco, probabilmente non avrebbe sbagliato. Non tanto importante quanto credevo un'ora fa. Già parlarne è stato un aiuto». Lei annui e sorrise. «Bene, ora senti la mia opinione. C'è qualcuno che ti sta facendo uno scherzo, non molto divertente». «Uno scherzo», ripetei. «Cercai di non mostrarlo, ma raramente me l'ho sentito tanto deluso. Forse in determinate circostanze sulle persone scende un velo di incredulità a proteggerle, o forse, più probabile, non ero riuscito a trasmetterle la mia sensazione personale che questo fenomeno stesse succedendo, stesse ancora succedendo, come per una valanga». «Uno scherzo», confermò lei. Poi aggiunse «Ma tu non lo credi?». Altri punti guadagnati in percezione. Annui. «Quando sono uscito, ho chiuso la porta chiave ed era chiusa la chiave quando sono rientrato. Ho sentito i meccanismi quando ho girato la chiave. Sono rumorosi. Non puoi sbagliare». Tuttavia, il rimorso del sopravvissuto è un sentimento strano. È anche potente, almeno secondo le riviste. «Non... non c'entra niente il rimorso del sopravvissuto», era la frase che stavo per pronunciare, «ma sarebbe stato uno sbaglio. avevo una buona occasione di fare una nuova amicizia, e fare una nuova amicizia sarebbe stato un bene. Comunque fosse andato il nostro dibattito». Così mi corressi. «Non penso che sia il rimorso del sopravvissuto», indicai il cubo di Lucite. «E lì, no? Come gli occhiali da sole di Sonia. Tu lo vedi, io anche. Immagino che avrei potuto averlo comprato io stesso, ma...». Mi strinsi nelle spalle cercando di esprimere un concetto che di certo era ben presente a entrambi. «Tutto è possibile». «Io non credo che tu l'abbia fatto». «Ma non posso nemmeno accettare l'idea che si sia aperta una botola ai confini della realtà attraverso la quale sono cascati fuori questi oggetti». «Sì, era quello il problema. Per Paola l'idea che il cubo di Lucite e gli altri oggetti apparsi in casa mia avessero un'origine soprannaturale era automaticamente esclusa, per quanto i fatti sembrassero sostenerla. A me restava da decidere se avevo bisogno di difendere la mia tesi più di quanto avessi bisogno di farmi un'amica». Decisi di no. «D'accordo», dissi. Colsi lo sguardo del cameriere e gli feci segno che desideravo il conto. «Io posso accettare la tua incapacità di accettare». «Davvero puoi?» mi domandò, guardandomi con attenzione. «Sì, e pensai di essere sincero. Se però possiamo bere insieme un caffè ogni tanto, o anche solo salutarci nell'atrio». Senz'altro, ma mi sembrò assente, non del tutto sintonizzata. stava osservando il cubo di Lucite con dentro la monetina d'acciaio. Poi guardò me. Mi parve quasi di vedere una lampadina che le si accendeva nella testa, come in un fumetto. Afferrò il cubo stringendolo nella mano. Non saprei esprimere la profondità dello sgomento che provai quando lo fece, ma che cosa potrei dire? Eravamo cittadini di New York in un locale pulito e ben illuminato. per parte sua aveva già stabilito le regole del gioco che escludevano nella maniera più assoluta il soprannaturale. Il soprannaturale era fallo laterale. Qualunque cosa fosse finita là andava rimessa in gioco. E c'era una luce negli occhi di Paola di quelle che indicano che Miss Yogg Down era in casa e so per esperienza personale che è una voce a cui difficilmente si resiste. Dallo a me, mi propose con un sorriso negli occhi. In quel momento vidi, per la prima volta in realtà, che oltre che bella era anche sexy. Perché? Come se non lo avessi saputo. Diciamo che è il mio onorario per aver ascoltato la tua storia. Non so se è buona, ma lo è, tagliò corto lei. Si stava affezionando la propria ispirazione. E quando succede è raro che una persona accetti un no per risposta. È una grande idea. Impedirò almeno a questo souvenir di tornare da te scondinzolando. Abbiamo una cassaforte in casa nostra. Si esibì in una simpatica piccola pantomima in cui chiudeva lo sportello della cassaforte, ruotava la manopola della combinazione e si gettava la chiave dietro la spalla. Va bene, accettai. Prendilo come un regalo da parte mia. E provai qualcosa che poteva essere contentezza maligna. Chiamiamola la voce di Mr. Yao, te ne accorgerai. Evidentemente confessare il mio segreto non era stato abbastanza. Lei non mi aveva creduto e almeno una parte di me invece lo voleva e si era risentita per non essere stata accontentata. Quella parte sapeva che lasciarle prendere il cubo di Lucite era un'idea assolutamente tremenda. Ma era contenta lo stesso di vederla metterlo nella borsetta. Ecco fatto, esclamò allegramente. Mamma dice ciao ciao, tutto finito. Forse quando tra una settimana non sarà tornato indietro o anche due, immagino che dipenda tutto da quanto caparbio voglia essere il tuo inconscio. Allora potrei cominciare a dar via anche gli altri oggetti. E queste parole furono il suo vero regalo di quel giorno, anche se al momento ancora non lo sapevo. Forse, risposi sorridendo, grande sorriso per la nuova amica, grande sorriso per la bella mamma, mentre intanto pensavo te ne accorgerai. Io se ne accorse. Tre sere dopo, mentre stavo guardando Chuck Scarborough che al telegiornale delle sei illustrava gli ultimi problemi dei trasporti della metropoli, suonarono alla mia porta. Siccome non aspettavo nessuno, pensai che si trattasse di una consegna. Magari persino Rafe con qualcosa della Federal Express, aprì e mi trovai davanti a Paula Robson. Non era la donna con cui avevo pranzato. Chiamiamola Miss Yao, quanto è brutta la chiemio. Si era messa solo un filo di rossetto, nient'altro, e la sua carnagione aveva una preoccupante sfumatura bianco-giallastra. Per non parlare delle occhiaie violacee. Forse si era data anche un colpo di spazzola ai capelli prima di scendere dal quinto piano, ma non era servito molto. Sembravano stoppie e le sparavano da una parte e dall'altra in un modo che in altre circostanze sarebbe stato comico. Teneva il cubo di Lucite davanti al seno, permettendomi di notare che le unghie curate di quella mano non c'erano più. Se le era rosecchiate via fino a sanguinare. E il mio primo pensiero, che Dio mi perdoni, fu sì, se n'è accorta. Me lo porse. Riprenditelo, disse. Lo feci senza fiatare. Si chiamava Roland Abelson, disse lei. Vero? Sì. Aveva i capelli rossi? Sì. Non era sposato, ma manteneva il figlio di una donna di Rui. Non lo sapevo. Pensavo che nessuno alla Light and Bell lo avesse saputo. Ma annui di nuovo. E non solo perché non si fermasse. Ero sicuro che avesse visto giusto. Come si chiamava lei, Paola? Senza sapere perché glielo stessi chiedendo, non ancora, ma sicuro di doverlo sapere. Tonya Gregson. Sembrava in trance. C'era però qualcosa nei suoi occhi. Qualcosa di così terribile che quasi non riuscivo a guardarli. Presi comunque nota del nome. Tonya Gregson Rauway. Poi, come facendo un inventario di magazzino, un cubo di lucite con soldino. Cercò di nascondersi sotto la sua scrivania. Lo sapevi? No, vedo che non lo sapevi. Gli stavano bruciando i capelli e piangeva, perché in quell'istante aveva capito che non avrebbe mai posseduto un catamarano e non avrebbe mai più tagliato l'erba del prato. Allungò la mano e me la posò sulla guancia. Un gesto così intimo che sarebbe stato traumatico se le sue dita non fossero state così fredde. Alla fine avrebbe dato via fino all'ultimo centesimo dei suoi soldi e fino all'ultima azione dei suoi titoli solo per poter falciare di nuovo l'erba del prato, ci credi? Sì, urlavano tutti e lui sentiva l'odore del carburante di aereo e capì che stava per morire. Capisci questo? Capisci l'enormità di questo? Annui. Non riuscivo a parlare. Anche con una pistola puntata alla testa non sarei stato in grado di parlare. I politici parlano di commemorazioni e coraggio e guerre per eliminare il terrorismo, ma i capelli che bruciano non sono un fatto politico. Scoprì i denti in un sorriso terribile. Durò solo un istante. Stava cercando di nascondersi sotto la scrivania con i capelli in fiamme. Sotto la sua scrivania c'era una cosa di plastica, un tapetino. Sì, un tapetino. Un tapetino di plastica. Ci aveva messo sopra le mani e sentiva le nervature nella plastica e sentiva l'odore dei propri capelli che bruciavano. Questo lo capisci? Annui. Cominciai a piangere. Era di Roland Hebelson che stavamo parlando, questo tizio con cui lavoravo. Lui era la responsabilità civile e io non lo conoscevo molto bene. Ci si salutava, niente di più. Come facevo a sapere che aveva un figlio a Rauwey? E se quel giorno io non avessi marcato visita, probabilmente anche i miei capelli sarebbero bruciati. Fino a quel momento non me ne ero veramente reso conto. Non voglio vederti più, disse lei. Balenò ancora una volta quel sorriso raccapricciante. Ma ora piangeva anche lei. Non mi importa niente dei tuoi problemi. Non mi importa niente delle cose che hai trovato. Abbiamo chiuso. Da adesso in poi mi lasci stare. Fece per girarsi. Poi ci ripensò. L'hanno fatto in nome di Dio. Ma non c'è nessun Dio. Se ci fosse un Dio, signor Stali, li avrebbe folgorati tutti e diciotto nelle loro sale d'aspetto con le loro carte d'imbarco in mano. Ma nessun Dio lo ha fatto. Hanno invitato i passeggeri a imbarcarsi e quelle teste di cazzo si sono imbarcate. La guardai tornare l'ascensore. Aveva la schiena dritta come un palo. I capelli le sparavano da una parte e dall'altra della testa come in una vignetta dell'inserto domenicale. Non voleva vedermi più e non la biasimavo. Chiusi la porta e guardai l'Abe Lincoln d'acciaio nel cubo di lucite. Lo osservai per parecchio tempo. Pensai all'odore dei peli della sua barba se U.S. Grant vi avesse spento dentro uno dei suoi immancabili sigari. Quello sgradevole profumo di fritto. Alla tv qualcuno stava dicendo che da Sleepy's era in corso una grande svendita. Dopodiché comparve Lem Berman a parlare dei jazz. Quella notte mi svegliai alle due ad ascoltare bisbiglio delle voci. Non avevo avuto né sogni né visioni delle persone a cui erano appartenuti gli oggetti. Non avevo visto nessuno con i capelli in fiamme o che saltava dalle finestre per sfuggire all'incendio del carburante ma era giusto così. Sapevo chi erano. E gli oggetti che avevano lasciato indietro erano stati lasciati per me. Affidare il cubo di lucite a Paula Robson era stato un errore ma solo perché era la persona sbagliata. E a proposito di Paula una delle voci era la sua. Potrai cominciare a dar via anche gli altri oggetti disse. E poi immagino che dipenda tutto da quanto a Caparvio voglia essere il tuo inconscio. Tornai a sdraiarmi e dopo un po' riuscì a prendere sonno. Sognai di essere al Central Park a dar da mangiare alle anatre quando all'improvviso ci fu un boato come per il superamento della barriera del suono e il cielo si riempì di fumo. Nel sogno il fumo aveva l'odore di capelli che bruciano. Pensai a Tonya Gregson e Raway. Tonya e il bambino che aveva forse sì e forse no gli occhi di Roland Abelson e pensai che quella me la sarei dovuta studiare. Decisi di cominciare dalla vedova di Bruce Mason. Presi il treno per Dobbs Ferry e chiamai un taxi dalla stazione. Il tassista mi portò a una casa in stile Cape Cod in una via residenziale. Gli diedi dei soldi. Gli chiesi di aspettare. Non mi sarei trattenuto. E suonai il campanello. Avevo con me una scatola. Sembrava una di quelle in cui si confezionavano le torte da pasticceria. Dovetti suonare una volta sola perché mi ero fatto precedere da una telefonata e Janice Mason mi aspettava. Avevo preparato con cura la mia storia. La raccontai con una certa sicurezza sapendo che il taxi fermo nel vialetto d'accesso con il tassametro in funzione avrebbe scongiurato un controinterrogatorio troppo approfondito. L'otto settembre spiegai il venerdì precedente. Avevo cercato di suonare una nota dalla conchiglia che Bruce conservava sulla sua scrivania come avevo sentito fare a Bruce stesso il giorno del picnic a Jones Beach. Janice la signora delle mosche annuiva. C'era anche lei quella volta naturalmente. Fatto sta dissi per farla breve che avevo convinto Bruce a cedermi la conchiglia per il fine settimana per potermi esercitare. Poi lunedì mattina mi ero svegliato con una sinusite pazzesca e un mal di testa da spaccare le pietre. Era la storia che avevo già raccontato a diverse persone. Stavo bevendo una tazza di tè quando avevo sentito il boato e avevo visto alzarsi il fumo. Non avevo più pensato alla conchiglia fino a qualche giorno prima. Stavo dando una ripulita al mio ripostiglio e dannazione eccola lì. Così ho pensato beh non è un gran che come ricordo ma ho pensato che magari le sarebbe piaciuto sa. Gli occhi le si riempirono di lacrime come era successo ai miei quando Paola era venuta a restituirmi il fondo pensione di Roland Evelson senza però l'espressione impaurita che sicuramente aveva assunto il mio volto al cospetto di Paola con i capelli che le sparavano dai lati della testa. Janice rispose che le avrebbe fatto immenso piacere avere qualunque ricordo di Bruce. Non riesco a togliermi dalla testa come ci siamo salutati disse con la scatola tra le braccia. Usciva di casa sempre molto presto perché prendeva il treno. Mi diede un bacio sulla guancia e io aprì un occhio e gli chiesi se tornando a casa poteva passare a prendere mezzo litro di latte. Rispose di sì e l'ultima cosa che mi disse. Quando mi chiese di sposarlo mi sentì come Elena di Troia, stupido ma assolutamente vero e adesso rimpiango di non aver detto qualcosa di meglio che prendi mezzo litro di latte. Ma eravamo sposati da parecchio e sembrava un giorno lavorativo come tutti gli altri. Non lo sappiamo vero? Sì. Già ogni separazione può essere per sempre e noi non lo sappiamo. Grazie signor Staley per essere venuto fin qui a portarmi questo. È stato molto gentile. poi abbozzò un sorriso. Ricorda quella volta che suonò la conchiglia torso nudo sulla spiaggia? Sì, risposi e guardai il modo in cui stringeva la scatola. Più tardi si sarebbe seduto da qualche parte, avrebbe tirato fuori la conchiglia e avrebbe pianto tenendola in grembo. Sapevo che almeno quella conchiglia non sarebbe più tornata a casa mia. Era arrivata a casa sua. Tornai alla stazione e presi il treno per New York. A quell'ora del giorno, inizio pomeriggio, le carrozze erano quasi deserte e io sedetti a un finestrino striato di pioggia e polvere a guardare il fiume e il profilo dei grattacieli che mi veniva incontro. Nei giorni piovosi si ha quasi l'impressione di creare quel profilo dalla propria immaginazione. Un pezzo alla volta. Domani andrò a Raui con il cubo di lucite. Forse il figlio o la figlia lo prenderà nella manina e lo osserverà con curiosità. In ogni caso io me ne sarò liberato. Pensavo che l'unico oggetto che mi avrebbe dato qualche difficoltà sarebbe stato il cuscino scorreggione di Jimmy Eagleton. Non potevo certo raccontare alla signora Eagleton che l'avevo portato per esserci per esercitarmi durante il fine settimana, giusto? Ma la necessità è la madre dell'inventiva e confidavo nella mia capacità di escogitare prima o poi una storia abbastanza plausibile. Considerai la possibilità che con il tempo apparissero altri oggetti e mentirei se sostenessi che la trovai totalmente sgradevole. Quando si tratta di restituire oggetti che le persone credono di aver perso per sempre, oggetti che hanno un peso, c'è un tornaconto. Anche se si tratta di cosucce, come un paio di occhiali da sole scherzosi o un soldino d'acciaio in un cubo di lucite? Sì, devo dire che c'è un tornaconto. Ciao, sono Alessandro di Random Audiolibri. Questo era Le cose che abbiamo lasciato indietro, di Stephen King. Se posso esprimere un parere, questo racconto aveva delle grandi potenzialità e sono riuscito ad apprezzarlo solamente verso la fine. Manco a dirlo, l'ho trovato troppo lungo e dispersivo. E mi dispiace, perché non è la prima volta che io esprimo dei pareri di questo tipo su racconti di Stephen King. Io non capisco cosa gli frulli per la... perché questa mania di raccont... mi sembra di quelle persone che quando hanno il bisogno di raccontarti una cosa semplice, tipo... lo sai che sono andata al supermercato e... ho incontrato un signore che poi poco dopo ho saputo che è morto. Ok. Perché dire... sai che oggi mi sono andata al supermercato, mi sono vestita così e ho scelto quel vestito perché questo mi ricordava una persona che adesso non c'è più e quindi non avevo voglia di mettermi quel vestito rosso, quindi ho preferito quello verde. Sono uscita, però lo sai che mi sono dimenticata le chiavi di casa, quindi sono tornata indietro e allora li ho prese. E tornando indietro ho incontrato il cane del vicino che ho recuperato, l'ho riportato al mio vicino di casa, mi ha ringraziato, mi ha offerto una tazza di caffè, però ho dovuto rifiutare perché dovevo andare al supermercato, però gli ho detto che magari ce la saremmo presa nel pomeriggio. Il mio vicino, quello che fa il metalmeccanico, ha la dita Sclaflackland di Vercelli, sì, proprio lui che gli è morta la moglie due anni fa. Sì, comunque poi sono andato al supermercato, stavo guardando nel reparto dei... cioè io non sono... in tutto questo io devo raccontare solamente che sono andato al supermercato, che ho incontrato un signore che poi la sera è morto. E perché mi devo perdere in tutti questi dettagli inutili, che sono inutili ai fini della storia? Io non lo so se siete d'accordo con me oppure se sono io che sto esagerando, però secondo me il più grande difetto di Stephen King è essere Stephen King. Detto questo io vi do appuntamento al prossimo racconto di No Edit che dovrebbe essere... non lo so... allora il prossimo racconto è in ordine pomeriggio del diploma, ma mi sembra che è stato già fatto su YouTube. Sì, infatti ho controllato, pomeriggio del diploma è stato già fatto in audiolibro, lo trovate su YouTube facendo una ricerca e anche il racconto successivo intitolato N è stato già fatto anche quello, quindi lo trovate entrambi i racconti pomeriggio del diploma N su YouTube e il successivo in ordine è il gatto del diavolo. Quindi il prossimo racconto che leggerò sarà quello. Io ti invito sempre a lasciarmi un like, commentare sotto al video perché così l'algoritmo di YouTube mi premia se commentate. E se non sapete cosa commentare, siete arrivati ad ascoltare sino a qua, lasciate l'emoji di un aereo. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!